Musica Oggi andiamo a fare una ricetta molto goduriosa Facciamo le caserecce con il gorgonzola, le noci e il radicchio Saliamo l'acqua Così E mettiamo la pasta a cuocere Questa è la pasta che cuoce in 11 minuti Ecco qua Mettiamo un pentolino sul fuoco Dove andiamo a mettere della panna Mentre la panna si sta riscaldando Comincio a tagliare Il radicchio E' una cosa che faremo praticamente Quasi all'ultimo momento Quello di saltare il radicchio Nel frattempo possiamo cominciare a mettere il gorgonzola Direttamente nella panna E' cremosissimo poi E lo andiamo a mettere proprio a fiocchettini così Buonissimo Quando la panna ha preso bene calore Quindi si vengono a creare tutte le bollicine intorno Piano piano cominciate a girare In modo tale a far sciogliere il gorgonzola E ora andiamo a spadellare velocemente Il nostro radicchio Prendiamo una bella padella Senza nessun tipo di insaporitore Solo un pochino d'olio Nel frattempo che si sta stufando Il radicchio Andiamo a rompere un po' di noci Ecco qua E aggiungiamo la pasta subito al radicchio E possiamo spengere A questo punto trasferiamo la pasta in questa bull E andiamo a metterci la nostra crema Al gorgonzola E poi ci andiamo ad aggiungere le noci Il profumo è assolutamente favoloso Ecco Ci andiamo a mettere No, sono dietro le noci Qualche altra noce Così come decorazione E poi Qualche pezzettino di gorgonzola E lo mettiamo sopra Ecco qua Bene Queste sono le nostre caserecce Con gorgonzola Radicchio e noci Buon appetito Grazie a tutti